Santo Onorato è il terzo vescovo che ha avuto Vercelli dopo Eusebio, il fondatore della diocesi, e dopo il suo primo successore, Limenio. Alla morte di Limenio nel 396, però, la comunità vercellese fu agitata e sconvolta da gravi discordie. Queste impedirono la disegnazione del nuovo candidato, protraendo a lungo la vacanza della sede. Allora, non era facile come oggi la nomina, anche nel clero, nei fedeli, delle differenze di vedute. Accresceva però il turbamento, l'azione disgregatrice di due monaci apostati milanese, arrivati a Vercelli a diffondere i loro errori circa la disciplina ascetica e la continenza, soffiando sul fuoco delle divisioni interne che c'erano. Esse alimentavano con false dicerie il risentimento verso Sant'Ambrogio e lo presentavano come responsabile delle agitazioni e della ritardata elezione del nuovo vescovo. Ambrogio, a conoscenza di questo, intervenne dapprima con una lunga e severa lettera ammonitrice ad ecclesiam vercellensem alla chiesa di Vercelli, che fu tra l'altro l'ultimo scritto di Ambrogio. Poi di persona arrivò lì per risolvere la situazione e la scelta del candidato cadde su Onorato, che era membro del Cenobio Episcopale, cioè il centro di vita comune che era stato fondato da Eusebio per la preparazione dei sacerdoti. Tale disegnazione, data la stima che Onorato godeva da parte del clero, pacificò gli animi. Dal canto sumo il nuovo vescovo nutri per Ambrogio, si può capire, grande gratitudine e devozione filiale e quando questi cadde malato, ecco, nella primavera del 397, accorse a Milano per assisterlo. Fu lui ad amministrare ad Ambrogio il viatico, dopodiché il grande vescovo spirò serenamente. Delle virtù e delle qualità pastorelle di Onorato è testimone il carme, pressoché contemporaneo, che fu inciso sul marmo del suo sepolcro, situato presso quello dei due predecessori Eusebio e Limenio. Esso afferma, tra l'altro, che il santo insegnò la dottrina sicura, cioè non contaminata dall'arianesimo, che era l'eresia allora serpeggiante, né dalle idee che i due monaci apostati avevano propagato a Vercelli. Inoltre, questo carme lo presenta come esempio di vita santa e di zelo pastorale. Onorato morì il 29 ottobre dopo circa vent'anni di episcopato ed ebbe subito un grande culto nella chiesa di Vercelli.